Allora dunque Pilato ordinò di prendere Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati del preside, tratto Gesù dentro al pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte e spogliatolo gli misero addosso un mantello scarlatto e intrecciata a una corona di spine gliela posero in capo mentre nella destra gli misero una canna. Quindi li si avvicinavano e piegando il davanti a lui lo schernivano dicendo salute o re dei giudei e gli davano degli schiaffi. Poi sputandogli addosso gli prendevano la canna e lo percotevano sul capo. Pilato intanto uscì di nuovo a dire loro ecco ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui nessuna colpa. Gesù venne fuori portando la corona di spine e il manto di porpora e Pilato disse loro ecco l'uomo. Ma visto che lebbero i capi dei sacerdoti e i ministri gridarono crocifiggilo crocifiggilo disse loro Pilato prendetelo e crocifiggetelo voi perché io non trovo in lui colpa alcuna. Gli replicarono i giudei noi abbiamo una legge e secondo questa deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Sentite che ebbe Pilato queste parole si impaurì più che mai e rientrando di nuovo nel suo pretorio disse a Gesù donde sei? Ma Gesù non gli die risposta. Gli disse allora Pilato non mi parli? Non sai che ho potere di liberarti o di crocifiggerti? Rispose Gesù tu non avresti su di me alcun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo ma i giudei gridavano dicendo se lo liberi non sei amico di Cesare. Chi infatti si fa re va contro Cesare. Udite queste parole Pilato meno fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo detto litostroto in ebraico gabbata. Era la preparazione della Pasqua circa l'ora sesta e Pilato disse ai giudei ecco il vostro re. Ma essi gridarono via via crocifiggilo e Pilato a loro dovrò crocifiggere il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti noi non abbiamo altro re che Cesare. Pilato vedendo che nulla otteneva anzi che il tumulto si faceva maggiore prese dell'acqua e si lavò le mani dinnanzi al popolo dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto pensateci voi e tutto il popolo rispose gridando il sangue di lui cada su di noi e sui nostri figli. Allora dunque egli abbandonò Gesù in loro balia perché fosse crocifisso. I soldati intanto presero Gesù e dopo averlo schernito spogliatelo del manto lo rivestirono delle sue vesti poi lo condussero fuori e lo menarono a crocifiggere. Ed egli portando la sua croce s'avviò al luogo detto Calvario in ebraico Golgota. Ora nell'uscire dalla città incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone padre di Alessandro e di Rufo che veniva dalla campagna e lo costrinsero a prendere la croce di Gesù mettendogliela addosso perché la portasse dietro di lui. E lo seguiva gran folla di popolo e di donne le quali piangevano e facevano lamenti su Gesù. Ma egli rivoltosi a loro disse figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figlioli perché ecco verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili e i seni che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora si metteranno a dire alle montagne cadeteci addosso e alle colline ricopriteci perché se si tratta così legno verde che sarà del secco. Ed erano condotti con lui due altri due malfattori per essere giustiziati.